Ma tu cosa vuoi sapere? Sono venuto a Dubna, un'allegra cittadina a 100 km a nord di Mosca. Tu cosa vuoi sapere? Credo che questo sia lo striscione per darmi il benvenuto. Grazie! Solo che non riesco mai a capire in che via mi trovo. Tu cosa vuoi sapere? Hai chiesto al mago se in Russia abbiano tutti il cuore più tenero. Sono venuto fino a qui per scoprirlo. Ai russi piacciono i fiorellini rosa. Per essere più gentili i russi dipengono i cestini delle immondizie di rosa. I russi amano la famiglia. I russi amano gli animali. Questa signora posta a spasso i suoi piccioni. Signora, signora ha dimenticato un piccione? Signora? I russi amano la musica. Questa è la statua di Elvis Presley. In Russia sorridono tutti. Anche nei cartelloni pubblicitari. No, loro non stavano sorridendo però. Forse non sono russi. No, no, no. Sorridono tutti. Sì, i russi hanno il cuore tenero. ... Voi, in l'ambрасio dell'ambiente. Voi! Voi! Grazie a tutti.